L'ultima ora a New York, lavanderia! Era di qua e poi... Vabbè, in Italia. Sono 9,50. Con l'amore manca la carta di cripto, per pagare un dollaro 75. 9,50, più 40 minuti. Sei danno stata Geller. Prendi l'ultimo Starbucks? Sarà tristissimo. Com'è la scena che è successa oggi? Non ti hanno dato l'ordine? No, non mi ha fatto bicchiere, quindi ho aspettato un sacco e non c'era, poi gliel'ho detto e mi ha guardato a dire tu chi sei? Ma se sto pagato 10 minuti qua. Vabbè. E poi? Non poi me l'hai dato. No, l'omone. Ah sì, e poi quella che poi ti dà le bibite quando ho finito di farle ha chiamato Alice. Alice? Alice, non lo so, fanno sempre ognuno a modo suo. E ci siamo presentati io e un omone pelato. E poi lei ha sorriso, ci ha guardati e ha detto il frappuccino. E io ho detto io? Quindi c'è un omone pelato con la barba magari? Poi io ho preso quello, ho fatto due passi indietro e poi ha detto Alice caffè, non lo so, ice coffee e bla bla. C'è un omone pelato. E l'omone pelato è andato. Quindi c'è un omone pelato che si chiama Alice. Esatto. No, Alice. 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 Non lo so, lo scrivo non so perché. Oggi è giusto l'hanno scritto. Oggi è giusto. Cioè, a parte che credo abbia scritto Alice e però vabbè. Ah, quindi non è. È la cosa che si avvicina di più comunque. Cioè, ma tu che sei? È un mondo meraviglioso. Spiega. Sembra di essere a star solo. Spiega. Cioè, a quattro panchine di distanza c'era un poliziotto seduto con il motorino, vabbè la moto lì della polizia davanti. E ha fermato dei bambini continuavano a guardare la moto e li ha fatti avvicinare, li ha pulito il sernino e li ha fatti salire sulla sua moto per fare la foto. Riprendi che dove fai? Forse aiuta la circolazione o qualcosa? Ciao. Allora, visto che fare una conclusione è troppo triste perché stiamo lasciando gente. Stiamo lasciando? Hai detto Los Angeles. No, sono troppo male. Noi non facciamo la conclusione. Bella faccia. Quindi ci lasciamo così, vi salutiamo e ci rivediamo in Italia. Tanto torneremo, torneremo prima che pubblichiamo i video perché siamo irritatissimi. Sì, questo video lo vedrete almeno una settimana dopo, anche di più. Sì, siamo tornati. Quindi tutti danno, ma quanto state allora? No, ma siamo tornati. Va bene, è stato bellissimo. E lui ce l'ha fatto. Ciao. Hai, vi Grazie.